Un centinaio di nuovi posti di lavoro, oltre mille domande presentate su internet, 200 candidati selezionati sono i numeri del successo della nuova tappa del Mechitalia Job Tour che si è tenuta questa mattina sul lungomare Trieste di Salerno. L'azienda, leader mondiale della ristorazione fast food, aprirà tra pochi mesi in città un nuovo ristorante in pieno centro ed assumerà almeno 70 altre nuove persone. I candidati, molti giovanissimi, sono presentati puntuali all'appuntamento sul lungomare questa mattina debitamente allestito con stand della McDonald's dopo aver fatto domanda e superato le prime due fazzi di selezione online. I partecipanti hanno avuto la possibilità di incontrare i dipendenti degli altri ristoranti del gruppo per avere contezza di quello che sarà il loro nuovo lavoro. I candidati selezionati un centinaio circa rispetto ai 70 preventivati saranno inseriti in un percorso di formazione propedeutica alle loro mansioni nel nuovo ristorante. Ne abbiamo parlato con il partner licenziatario di McDonald's per Salerno e Potenza, Luigi Snichelotto. Il nuovo ristorante dovrebbe aprire nei prossimi mesi ma non solo. Noi cerchiamo la numerica dei 70 dipendenti che saranno poi inseriti durante i prossimi mesi. È legata anche alle OTF, Experience of the Future, che sono delle conversioni dei ristoranti che abbiamo in provincia di Salerno, Eboli, Ponte Cagnano, Le Cotoniere, Mercatello e questa prossima apertura. Quindi i 70 sono il numero minimo degli inserimenti ma in realtà la curva prevede, cioè quindi la lista prevede ovviamente una numerica selezionata rispetto ai 200 di oggi di un numero circa del 50%, tra i quali piano piano potremo inserire un po' tutti. L'orgoglio di portare in questi territori questo tipo di proposta che facciamo come individui perché la McDonald's è fatta di uomini, di persone, di sensazioni, sentimenti. Quindi siamo orgogliosi di questo perché cerchiamo di restituire al territorio parte del successo che ci attribuisce ai nostri clienti e quindi questo ovviamente ci fa molto piacere soprattutto in un territorio meridionale dove purtroppo in qualche maniera non riusciamo come collettività ad esprimere quegli standard che in altre parti d'Italia e d'Europa essendo noi europei sono abbastanza più consuetudinari.